Salve ragazzi, sono il vostro coca di Romato, se ti sento qui parla, e siamo qui a Blitz, andremo a fare un'evocazione speciale, dovremo scegliere dieci personaggi, e di questi dieci se ne daranno uno, quindi andiamo a scoprire quale personaggio potremo andare a scegliere, uno andremo a prendere, più su che tenso, poi andremo a prendere un istico, poi diamo un'occhietta a tutti, piano piano, vi faccio un altro istico, quindi puntiamo su istico e su Stark, un altro testo che stiamo solo, poi guardiamo chissà, potrei scegliere lei, potrei prendere un altro istico, e poi prendiamo lui, prendiamo lui, prendiamo, se ne sono davvero tanti, c'è anche questo zin qua, guardiamo lui, strano, uuuu, guarda qua, guarda, grinta, chi potrà essere il nostro ultimo personaggio da seguire, chi sarà Mari, Luke, White, e poi c'è un altro Starrk, un altro White istico, mistico la giù, se è lei, dopo che è anche Luke and Patsy, da dire, tanti personaggi, veramente tanti personaggi, forse il preosieria è diversissimo, uuuu, che impasti con gli occhiali da sole, parrucchia, il sigo, zombie, e siamo arrivati, in fondo, quindi torniamo in su, piano piano, così te lo vediamo di tutti, di nuovo, e prendiamo lui, perfetto, abbiamo scelto, vediamo quale personaggio si darà, siete pronti? andiamo, se ne darà solo uno, chi se la mangia, questo è il Starrk, abbiamo preso Starrk, 150, 200, e viola, la minalizzazione, meno 20%, la sezione, polarizzazione, resistenza, insomma, dopo incremento normal attack, incremento stunk attack, tanking, incremento, se nel team si è un ranker, se link, mentre, cosa trovare, abbiamo due sprint, niente male, quindi abbiamo preso, lui Starrk, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel posizione in su, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, per non perdervi altri video, ciao ciao, al prossimo video, ciao!